Danilo Iervolino scrive ai tifosi dopo la richiesta del centro di coordinamento di poter avere un incontro per parlare della situazione della Salernitana. Il presidente Granata ha apprezzato e ringraziato i tifosi promettendo che quanto prima farà visita al club sorto appente da lui intitolato, preso dai suoi tanti impegni. Per il momento Iervolino non potrà incontrare la tifosiria organizzata a cui però ha chiesto di interfacciarsi costantemente con l'amministratore delegato Maurizio Milan che gode della sua totale fiducia e che farà da collante ed ambasciatore. Il presidente è convinto che la squadra potrà riprendersi ed ha ricordato il famoso 7% cui nel gennaio 2022 si appigliò Walter Sabatini, il cui carisma in quella fase riuscì a compattare l'ambiente e a caricare calciatori e tifosi. La situazione ora non è ancora così compromessa come allora ma la Salernitana deve cominciare a vincere e a dare risposte forti sul campo e fuori. Nei mesi dedicati al calcio mercato estivo la linea scelta del presidente è stata più volte oggetto di riflessioni e perplessità. Si è investito sui riscatti di Pirola e D.A. preferendo poi portare avanti operazioni entrate a costi contenuti in assenza di cessioni che potessero avvicinare il club al pareggio di bilancio sul mercato. Scelta legittima ma al momento non proficua visto che si è cambiato allenatore ad ottobre dopo una brutta partenza in campionato ed ora la squadra è ultima a 5 punti dalla salvezza. La situazione visto che mancano 26 giorni dal termine sarebbe ancora rimediabile ma occorre svoltare subito. I tifosi hanno già risposto sottoscrivendo tanti mini abbonamenti per le prossime due gare interne con Lazio e Bologna. Ieri sono registrati problemi tecnici che hanno costretto molti fans a ripetere la procedura d'acquista a distanza di ore. In mattinata infatti si erano registrati problemi per l'acquisto dei carnet. Gli abbonamenti più richiesti erano quelli di Curva Sud. Molti tifosi hanno completato la procedura online con tanto di indicazione precisa del settore, della fila e del numero di posto assegnato procedendo anche al pagamento telematico. Subito dopo però la sorpresa. Da una parte infatti Ticket One informava che il pagamento sarebbe potuto essere corretto ma dall'altra avvisava che si era verificato un errore. Successivamente con una mail la stessa società di Tickening informava agli utenti che il titolo acquistato non fosse valido ma che erroneamente si fosse accettato il pagamento a ragion per cui ci sarebbe stato un successivo storno della somma. E poco dopo ecco un'altra mail con l'indicazione di un link dedicato e di un codice da inserire per poter procedere a un nuovo acquisto dell'abbonamento per la Curva Sud Qualcuno ha trovato posto in Curva, qualcun altro ha acquistato il pack per i distinti. Resta da capire perché mai Ticket One pur accettando il pagamento tramite carte abbia sospeso l'emissione del titolo acquistato cioè del carnet di abbonamento che pur era stato regolarmente attribuito attraverso la canonica indicazione del settore, della fila e del numero di posto. Non è la prima volta che appena aperta la pre-venta si verificano dei problemi. Sembrerebbe che ieri siano stati risguidi telematici un po' per tutti i club di massima serie e non solo. Va dato atto alla Sretana di aver saputo rimediare in costile perché il club ha permesso ai tifosi che si erano visti rievocare il titolo di procedere a un nuovo acquisto dando loro la possibilità di abbonarsi per il settore distinti pagando l'importo stabilito per la Curva Sud. Un gesto signorile di grande attenzione verso i tifosi sarebbe bastato forse sospendere l'emissione di altri abbonamenti alla Curva Sud finché non fossero stati risolti i problemi scontrati in mattinata riservando a chi aveva proceduto all'acquisto il posto per il quale aveva pagato. Lodevole l'iniziativa dei mini abbonamenti da apprezzare il gesto di riservare un prezzo di favore ai tifosi rimasti a bocca asciutta per problemi tecnici auspicabile che in futuro tutti fidi liscio fin dall'inizio delle operazioni di vendita.